Secondo me le scene di passione sono le più noiose in assoluto. Io voglio conflitto, azioni, incidenti, morti. Invece se lei ha costretto a guardare due che si sbavano addosso. Oh, e da quando ero piccolo, guardavo la televisione, se vedevo due che si baciavano, speravo sempre che entrava il cattivo e l'ammazzava tutte e due. Paura, eh? Io so tutto sto discorso, non so mica d'accordo, sai? Perché? Perché a me le scene d'amore mi piacciono. Dai, le portiamo tutto. Ah, sei una sporcaccione allora. Quale sporcaccione? Mi piacciono le scene di passione, d'amore, sono sentimentale. Sì, è sentimentale, sei una zocco. Sporcaccione sei bene, sporcaccione è violento.